Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast, io sono BlackForce, oggi vi porto un PvP Andrò a castellare 3 replay per questa mandata, il primo che vi porto è un PvP fra Deathboy, Tesla e dall'altra parte abbiamo invece MC Quindi Protoss vs Protoss con MC Si prevedono già grandi cose mi verrebbe da dire Andiamo a vedere un attimino se Stark ha fatto il birichino, un attimino birichino Hihihi, un bel replay ozzo gay, ci sta, ci sta Comunque tornando seri Ho fatto un po' di game su Starkraft, uno anche con Kushni dove il buon vecchio Kushni diamante Non me l'aveva detto che era diventato diamante, intanto complimenti veramente a un giocatore di Starkraft che ha fatto tutta la gavetta Ed ora è arrivato lì dove in questo momento con il fatto che non è Continua nel giocare, almeno magari nell'ultimo periodo ha preso un po' di continuità Ma ha avuto anche un po' di problemi dove non giocava eccetera Per me è un ragazzo veramente veramente forte Che merita il posto dove è in questo momento Complimenti a Kushni Ok, per il resto in questo momento il Black Force in Ladder è un po' così Sto vincendo Ogni tanto ne perdo qualcuna Faccio le partite di Starkraft come pausa studio Quindi dopo un'ora, un'oretta e mezza di studio mi faccio una partitozza Per staccare un attimino la spina E voi le vinco, le perdo In maggior parte le vinco Ogni tre partite due le vinco, una la perdo Quindi direi che ci sta come media Qui attenzione perché MC sta inseguendo questa sondina birichina di DeathboyTesla Sondina birichina che ha piazzato giù il finimondo Partito con un Cannon Container, Cannon Rush Vediamo un po' come proseguirà Qui MC è costretto a difendersi Un MC che sta andando a fare il Mothership Core Mothership Core che poi potrà andare a fare Sovraccarico fotonico sui piloni per Per farli sparare Qui è importantissimo buttare giù i piloni Quanti piloni ci sono? C'è soltanto Ci sono due piloni Due piloni con invece quattro cannoni Cinque e sei cannoni che sparano Veramente durissima la partenza per MC Subito pushato fortissimo Da DeathboyTesla Perde anche questo cannone Ci sono un sacco di cannoni giù Perde anche questo pilone Ci sono un sacco di cannoni giù Dicevo per DeathboyTesla Soltanto un pilone È veramente fragile Questa Questa Composizione di cannoni Con solo un pilone giù Ma più che resistente in questo momento Anche in fondo alla mappa ci sono altri due piloni E un cannone sotto la rampa Così per dar manforte a tutte le sonde Per dar manforte ai suoi amici cannoni Nel caso uscisse qualcosa per provare a distruggere questo pilone Ma ci sono veramente Un sacco di cannoni Hanno distrutto il Nexus Distrutto il Nexus Ma attenzione Mi si è riuscito a scappare A rifarci un Nexus qua giù Una sondira Pilone Nexus Attenzione Vediamo ora in questo momento DeathboyTesla Cosa conosce del suo avversario Ha solo questa posizione Non sa che il suo avversario È riuscito a scappare Ci starà chiedendo probabilmente Come mai con Un solo Senza avere più il Nexus MC stia continuando a giocare Quindi magari gli può Sorgere il dubbio Attenzione Perde malamente anche questo Zelota MC Male male Per ora qui va a Traslare le sue sonde Grazie al Madship Core Con richiamo di mass Sul Nexus A questo punto le sue sonde Possono tornare a minare Questa è un po' una cosa che fanno i Terran Quando vengono Pushati con Un Cannon Rush Cannon Contain Alzano la base E se ne vanno con gli SCB Questa è veramente una cosa che Funziona Le cose peggiori lì sono Quando l'avversario Ti mette sotto Un'unità In move Sotto Il centro di comando Per non farlo Scendere Ma a quel punto della partita C'è solo una sonda Che si possono combattersela Più che Tranquillamente Qui rimarrà Questa composizione Di cannoni E pilone Su questa mappa Qui andrà a tirare giù Anche il centro cibernetico Ma probabilmente MC ha già pianificato il tutto Sta rifacendo Gate Gate Fabrica robotica Questo è di nuovo Un'inizio partita Per MC Volevo vedere come eravamo messi Con le entrate Siamo praticamente A pari Anzi MC è anche qualcosina in più In fatto di minerale Anche il livello di supply MC non è che abbia perso tantissimo Dead boy Ha veramente investito tanto In questo In questo assedio Sia in termini di pilone Che in termini di cannoni E alla fine saranno Non voglio dire minerale persi Perché in una fase avanzata Molta avanzata Il game Questa base Può essere anche Anche recuperata Da Da dead boy Ovviamente Andando a eliminare Tutti i cannoni E tutto il Le varie strutture Che possono essere Da parte Di MC Sta di fatto Che è andato A scautare Il buon tesla La mappa Ha buttato giù Qualche pilone Ma subito Prontissimi Questi zelotti La sentri E In matchup core A fare sovraccarico fotonico Per mandare via A gambe elevate La L'offensiva E la sonda Di dead boy Arrivano stalker Arrivano stalker Un altro stalker E un altro stalker Ancora Tre stalker Di qua però Ci sono ben due stalker Due zelotti E una sentri Sta pendendo per MC Questo scontro Ovviamente MC che si sta anche Staccando In fatto di Di minerali E Il buon dead boy Prova a prendersi Un'espansione Direttamente Sui minerali dorati Direttamente sui minerali dorati Si sta Deve un attimino A recuperare Nonostante abbia fatto Un buon attacco MC ha sfruttato Tutto quello Che poteva sfruttare Del gioco Ed è riuscito Ad avere la meglio Nonostante L'offensiva Dell'avversario Veramente Ottima Ottima Giocata Di MC Su una partenza Veramente aggressiva Di dead boy Qui ora andiamo a vedere Bellissime Le micrate Inizio game Di stalker Contro stalker Un dead boy Che sta ricercando Anche il blink Il blink Che permetterà Di essere molto più efficace Con i suoi blinker Si rispetto Di stalker Dell'avversario È partito Anche con Un Nexus Nella dorata Ok Era il buon MC Che è andato a fare Un immortale Mi sembra di aver visto Un immortale In catena di produzione Era il buon MC Un immortale Che fa veramente La differenza Quando si parla di stalker Dall'altra parte Scende la roba Solo in questo momento Per dead boy È veramente staccato Tantissimo Rispetto al suo avversario Per quanto riguarda I supply Nonostante ripeto Ha attaccato Il suo avversario Fin dalle prime fasi Della partita Mettendo su Questa composizione Di cannoni Che è andato a distruggere Un Nexus All'avversario Un povero zelota Preso fra gli stalker Di tesla Questi stalker Però non potranno Fare niente Fra i vari forcefield E scudi guardiano Questi sentry Sono veramente Super efficaci Contro quella Mambassa di stalker È su due basi Sia MC Sia Tesla Tesla Le ricordiamo sempre Il noto invertore Il fatto è che Qui Tesla Stanno da ricercare Il più uno Per l'attacco Dei propri stalker Attacco terrestri Protoss livello 1 E sta buttando giù Anche il laboratorio robotico Potrebbe fare La differenza A questo Avanzamento Di tech Anche perché comunque Qui Tesla Sta pressando Il suo avversario Un MC Che è stato costretto A difendersi Fin dall'inizio La partita Ora va con una Fenice Allucinata A vedere un po' Com'è La situazione Vediamo Se riuscirà Se riuscirà A scautare Questa zona Probabilmente Si No Fa un giro Fa il giro Largo Fa il giro Largo E non credo Passerà sopra Alla Alla base Di dead boy Qui questi stalker Sono costretti Ad andarsene Cominciano ad essersi Giù due Immortali Stalker Sentry Più che Adatti Per la difesa Arriva in questo momento La finessa Allucinata Ma niente Continua ad andare A vedere Su tutte le basi Possibili Dove il suo avversario Si è espanso Prova a fare una Zernita Qui MC Per vedere Dove si è espanso L'avversario Ha fuori anche Mi pare Mi pare Mi pare Mi pare No Si Ha fuori anche Un observer Ha fuori anche Un observer In questo momento Tenuto in difesa Che è I move Sul Bellissimo I move Sul Mothership core Che è a sua volta In patrol Wow Wow Veramente Altra finessa Allucinata Sta provando un po' A scautare la mappa MC Per vedere un po' Com'è La situazione Vedere dove si è espanso Il suo avversario Voglio vedere se l'ha già sgamato Non ancora Non l'ha ancora sgamato Sta facendo fare Le proprie finesse Allucinate Tutto il viaggio Solo che non è ancora Riuscito A sgamarlo Sta andando A che lui Con la ricerca Per il più Uno Per attacco Nell'unità Ha buttato in questo momento Giù il laboratorio robotico O meglio Sta per finire La costruzione Del laboratorio robotico Sta per finire Anche la ricerca Del blink Quindi saremo Più o meno In parità In questo momento Ci sono questi immortali Che fanno la differenza Nonostante gli stalker Siano upgradeati Con il più uno Per l'attacco Non possono veramente Fare nulla Contro questa composizione Il fatto è che Dead boy È andato a prendersi Su terza base Mentre MC Ancora non Non può neanche pensare Di mettere su una terza base Dato che comunque Ci sono questi stalker A controllare L'entrata E la fuoriuscita Di sonde E con il blinker Escono a salvarsi Ripetutamente È andato a fare Il disgregatore E anche MC Sta facendo il disgregatore Quindi ci potrebbero essere Delle battaglie Di protos contro protos Con il disgregatore Dove fa la supernova Purificante E quindi delle micrate Ancora più devastanti Di stalkers Che provano a sfuggire Alle varie Supernova Dell'avversario Oltre a 55 Gli scudi Delle unità terrestre Le strutture vicine Falzando danno anche contro Gli scudi Il che è Qualità Oltre che ovviamente Al Ai 145 Danni radiali Che sono veramente parecchi Due danni radiali Possono buttare giù N stalker Disgregatori Utilissimi In fase difensiva Ancora di più In fase offensiva Dato che comunque La supernova Che sparano Va veramente forte Per esempio Se siete dei terren Dovete per forza Stimpaccare Per riuscire a scappare Da questa Da questa Palla che rotola Blincata Agressiva Qui di MC Dead Boy Sorpreso Da questa Blincata aggressiva Di stalker Sta aspettando MC che gli stalker Possano Riblincare Per sfuggire Agli stalker Di The Boy Tesla E riesce A provare a farlo Nonostante la Blincata Super offensiva Di Dead Boy Per provare a Prendere più tempo Possibile All'avversario Questi mortali Fanno la differenza Perché comunque Riescono a rezzere bene Anche contro La supernova Purificante In più MC Ha giù veramente Una valanga Di centri Che possono Aiutarlo parecchio Vedete Gli immortali Comunque Rimangono su Contro Queste spallettate Di supernova Purificanti Prova a spallettare Anche MC Ma senza Successo A questo punto Dead Boy È su tre basi E questo fa Veramente la differenza In termini di entrate Se andiamo a guardare Gli upgrade Siamo con Lo 0-1-0-1 Anzi Addirittura Dead Boy Sta ricercando Più due Per l'attacco Delle su unità MC sta cercando Un prisma dimensionale Per provare a Probabilmente A droppare Qualcosina Nella base Dell'avversario Permettere un po' Di pressione In questo momento Sta veramente Subendo tanto Mai andarsi A chiudere Contro Il supernova In questi angoletti Veramente Puoi perdere Tutto l'esercito Starport Veramente interessante L'idea di buttare Giù lo starport Finiti che possono Essere utili Per tirare su Disgregatori O Le centri Comunque Immortali Anche Oppure Andrei a cercare Lance del vuoto Ci sono giù Un po' Il chettino Di stalker Quindi Non sarebbe Un'unità Perfetta In questo caso Separa I disgregatori Qui vediamo Subito Delle Micrate Veramente importante Da parte Dei due giocatori Tesla Però Con due fabbriche Robotiche Va a fare Due disgregatori Alla volta Questo vi permette Di avere Due Allen Disgregatori Attivi Alla volta Che possono Lanzare Supernova Purificanti Il che È veramente Devastante Rispetto All'armata Di MC Che ora Si prende Un'altra Supernova Nella faccia Riesce a scampare A questa Supernova In un ingaggio Diretto Le unità Di Di MC Sono favorite Rispetto a quelle Dell'avversario Ora riesce a Blinkare Aggressivo Sull'unità Del proprio Avversario Guardate Questa Supernova Come Cado Supernova Nella faccia Ma come Stavo Dizendo Questo esercito Di MC Avrebbe avuto La meglio In uno sconto Frontale Con quello Dell'avversario E così è stato Il problema È che Il suo avversario Si è veramente Rimaxato Alla velocità Della luce Prova In sé ora A mettere Giù Una terza Base Birichina In questa Zona Quindi Non facilmente Scautabile Per l'avversario Ma deve Riuscire a Prendere Assolutamente Un po' Di tempo Dato che Comunque I supply In questo momento Parlano Tesla Ottime Queste Supernova Che cadono Sugli stalker Che sono Che hanno bisogno Per forza Delle blink Fare queste Blincate Il consumo Comunque Il tempo Del blink E quindi L'impedisce Di fare Una blink Offensiva Per andare A chiudere La parere Tempest Tempest Tempeste Possono essere Un'ottima risposta Alle tempest Come unità Di assedio Comunque MC Si sta difendendo Da inizio partita E Questo Dà la possibilità Alle unità Di Deadboy Di fare ancora Più pressione Sull'avversario Qui Ci vuole una Blincata Super offensiva Di DMC Per andare a prendere Questi stalker Attenzione E qui Oddio Un accenno Di GG Questa è un'altra Supernova Un po' Riequilibrata la situazione Ma qui Deadboy ha sparato Una Supernova Che ha veramente Devastato Il supply DMC Attenzione Perché ora Deadboy È dentro La seconda DMC O meglio La terza Se voglio contare Anche la prima Ma Possiamo anche Non contarla Attenzione Qui Deadboy MC Scoto frontale Immortali contro immortali Stalker contro Stalker Cadono Supernova Come se non ci fassero domani MC riesce a scamparla Anche questa volta E Ora Giù la terza base Terza base Che deve essere riempita Al più presto Con delle sonde Volevo vedere Volevo vedere un attimo Il numero di strutture Siamo Un laboratorio Robotico Uguale Faro della flotta In questo momento Giù Per Deadboy Tesla A questo punto Poi ci sono Due fabbriche robotiche Contro due fabbriche Robotiche A livello di gate Siamo 6 contro 6 Quindi Nonostante MC Abbia Meno Entrata Nel suo avversario Ha più o meno Le stesse strutture Sì C'è quel faro Della flotta Che Ha sbloccato Un ramo di tech Molto interessante Che sono le porta stormo E in più ci sono Gli upgrade Che parlano Nettamente Fatemi prendere Unità terrestre Ok Nettamente Deadboy Dato che siamo Col più 1 Per l'attacco Per l'unità di MC Contro il più 3 Per l'attacco Delle unità terrestre Ovviamente Per Deadboy Un deadboy Che potrà Continuare ad espandersi Fra poco In questa zona Per esempio Dato che comunque La dorata È finita Può espandersi Anche in questa zona Sarebbe buono Lo stesso Sfortunato Sfortunato MC Nell'inizio partita A non aver beccato La base di espansione Del proprio avversario Dorata Tra l'altro Ha praticamente Guardato tutto Tranne lì Infatti Stiamo a vedere La visuale di MC Sa Che lì C'è una base Scoperta con un poco Di ritardo Tempest Tempest Che fa Un sacco di danni Specialmente Contro Enormi Quindi Ottima risposta Per il colosso Anche perché Il range È veramente mostruoso Questa forse Anche un'altra risposta Per cui non abbiamo visto Colossi Comunque non ci sono Unità leggere Ci sono Solo stalker Immortale Eccetera Quindi il disgregatore Ovviamente Più pertinente Il più disgregatore La supernova Può essere Migrate In modo migliore Altre supernova Sulla faccia Di MC Che si doveva Prendere Pienamente in faccia Arrivano anche Degli arconti Ora per Death Boy Che sta tirando fuori Tutte le sue armi Attenzione Supernova Sanguinante Bloody supernova Questa Nei confronti di MC MC Che prova ora Un tutto per tutto Probabilmente con questa Massa di stalker Immortali Attenzione Perché i supply Death Boy Calano vertigionalmente Un Death Boy Che può rischiare Che rischia di perdere La partita Dopo averla condotta Con un MC Continuamente Sua difensiva Guardate i supply Parano nettamente MC In questo momento Un MC Che andando ad expare Continuando ad expare Perché ha messo su qui E qui Ha back Un GG Death Boy Tesla Un GG Sul quale Io non speravo più Da ormai Un sacco di tempo Durante la partita Un MC Che ha fatto una partita Stratosferica Rivaltato completamente Un game Che lo vedeva Sotto anni luce Rispetto al suo avversario Veramente Un MC Mostruoso Va a vincere Con Lo 0-1 Contro un avversario Che aveva lo 0-3 Di upgrade Quindi due upgrade Sopra Tesla Rispetto a MC MC riesce comunque A giudicarsi la partita Applausi a scena aperta Veramente per MC Ragazzi Direi di concludere Il cast così Io vi ricordo di mettere Mi piace Commentare Iscrivetevi al canale Se vi piace i miei video Io vi ringrazio per la visione Ci vediamo con il prossimo cast Ciao a tutti ragazzi